Il corpo senza vita di un uomo unganese di 64 anni, stando alle prime informazioni, è stato rinvenuto sulla linea ferroviaria di Roma nei pressi della stazione di Termini. La vittima, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato investito da un treno. Sul posto è giunta la polizia ferroviaria che sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Intanto la circolazione dei treni è rallentata, come ha fatto sapere Trenitalia.